Il quadro che qui alle mie spalle è uno dei più bei ritratti che Van Gogh abbia fatto. In certe lettere lui scrive proprio questo, dice io vorrei fare e concentrarmi sul ritratto che è la cosa che mi interessa di più. Il ritratto di Joseph Michel Ginoux, che era il padrone del Café de la Gare, il primo posto dove lui è arrivato quando è arrivato ad Arles. Ha fatto il ritratto suo e ha fatto il ritratto anche della moglie, la cosiddetta Arlesienne. Il ritratto è straordinario perché è di una tensione, di un'energia, di una sintesi plastica, se vogliamo dire, e di un'accensione di cromatica eccezionale.